Il Partito Democratico sostiene la risoluzione dei sindaci, in particolar modo del sindaco di Pescina e del sindaco di Tagliacozzo, per la riapertura immediata dei punti di primo soccorso. È una vergogna che la Giunta Lenta abbia chiuso per la prima volta nella storia di questi presidi addirittura la rete di emergenza urgenza in ragione di quei reparti così importanti e che fatti di cronaca di queste settimane e di questi giorni hanno testimoniato con tutta la loro forza, non solo per le file che ci sono presso il pronto soccorso di Avezzano, ma anche per altri fatti di cronaca che saranno oggetto di accertamenti. Sosteniamo questa battaglia. Ieri abbiamo firmato con tanti cittadini per la riapertura immediata e oggi in capigruppo, così come chiedono tutti i sindaci della Massica, a partire ovviamente dal sindaco di Pescina e di Tagliacozzo, sosteniamo come capigruppo delle forze di opposizione e chiediamo alla maggioranza di poter arrivare a questo importantissimo obiettivo per tutta la comunità della Marsica. Bisogna essere davvero coraggiosi nel richiedere al manager testa di riaprire immediatamente perché non si possono fare sulla rete di emergenza urgenza cittadini di serie A e cittadini di serie B.